è quella di cominciare a comprendere quanto sia importante la comunicazione la comunicazione fra di voi, perché dovete comunicare a volte noi non riusciamo a comunicare per vergogna, perché siamo un po' timidi perché non vogliamo rispettare gli altri a tutti i costi ma qui al Festival dell'Oriente, a Roma, faremo una cosa unica ed è quella che farete adesso, guardatevi faccia con faccia, vai, guardatevi proprio negli occhi se siete in tre, guardate quello del mezzo, ok, perfetto, guardatevi bene forza, fatelo, fatelo, mamma e figlio, marito e moglie, fatelo perché vi aiuterà moltissimo da questo momento, quando vi dirò, ora, vi urlerete in faccia, ora! guarda, guarda quanta felicità diffusa eh, da quanti anni è che lei aspettava questo momento? e vai, ha detto, vedi, vedi, è così questa energia esplosiva che arriva a voi allora, però, arriviamo all'ultimo momento ed è quello decisivo per esprimere la gioia la grande gioia che c'è in noi bisogna gridarla e allora, quando è che noi grideremo questa gioia? la grideremo quando faremo un'azione specifica e qui si trasforma tutto quanto perché la nostra terra, questa terra ha un'energia straordinaria da tutti gli indiani d'America i messicani i tibetani tutti quelli che ho conosciuto hanno detto sempre la stessa cosa devi energizzare e valutare la tua terra ed è per quello che io sono dichiaratamente sciamano italiano perché noi viviamo qua e devo comprendere questa terra meravigliosa e allora per fare questo dovete fare un'unica cosa e starete veramente da Dio su, tutti in piedi vai bellissimi così tutti in piedi benissimo bene, bene, bene così perfetto gruppo in mezzo siete incollati no, va bene state in piedi vai così mi fa bene mi fa bene mani in alto tutti quanti con le mani le braccia fuori così e da questo momento tutti voi comincerete a prendere questa grande energia che è sotto di voi cominciate a prenderla dentro e portarla su per le brazza e poi su per le gambe e poi sempre più su fino ad arrivare al cuore che le illumina arrivando sempre più in alto facendo il collegamento fra terra e cielo e quando vi dirò ora voi griderete gioia ora grandi bravi è così è così bravissimo perfetto ma a questo punto grazie ma a questo punto bella grazie